Parla Signore, parlaci ancora 2 marzo Molte anime parlano di fede, ma dimenticano di vivere secondo la fede. Esse dicono di amarmi, ma non conoscono nulla dell'amore. Parlare di amare qualcuno che non hai mai visto è una perdita di tempo quando sei incapace di amare le anime che sono intorno a te e che hanno bisogno del tuo amore, della tua saggezza e della tua comprensione. Impara dapprima ad amare le anime che ho collocato nella tua cerchia. Capirai allora cosa significa amarmi davvero. Perché attraversare la vita a tentoni quando tutto ciò che devi fare è camminare con fermezza, a grandi passi, con fede e fiducia e sapendo che io sono con te. Io sono qui e ti offro tutti i miei doni perfetti e benefici ma se non vuoi accettarli non ne potrai godere. Te li do liberamente, devi accettarli liberamente e farne un saggio uso per il bene del tutto.